Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della playlist DeFi, la guida completa, che ha l'obiettivo di spiegare al pubblico più ampio possibile come funziona questo mondo della DeFi. Oggi andremo a vedere quello che è il crypto wallet, cioè come detenere le proprie criptovalute in modo sicuro e soprattutto personale e autonomo, quindi indipendente dai vari exchange che utilizziamo magari per acquistarle. Adesso ragazzi vi saluto subito da questa postazione perché mi trasporterò immediatamente al computer, quindi ci vediamo lì fra 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ragazzi, partiamo quindi subito con l'aiuto di alcune slide per capire quelli che sono i cenni teorici necessari per poi capire quello che andremo a fare successivamente all'atto pratico. Quindi innanzitutto che cos'è un wallet per criptovalute? Intuitivamente lo possiamo vedere come un contenitore delle criptovalute stesse, un po' la funzione che hanno i portafogli tradizionali ai quali siamo abituati, nelle quali ci mettiamo le banconote, le carte, eccetera, eccetera. D'altra parte questa definizione non è completamente corretta, in quanto le criptovalute non sono mai effettivamente contenute all'interno del wallet. Infatti il wallet è più che altro un contenitore, un gestore delle password o, come vedremo dopo, delle chiavi private, quelle che vengono chiamate come private key. Ad esempio, immaginatevi, questa password key che ho creato per gioco viene semplicemente immagazzinata e gestita in modo automatico dal wallet. Cerchiamo di scendere un attimo più nel dettaglio, quindi cosa vuol dire che un criptovalute è un contenitore e gestore di chiavi private, quindi di password possiamo definirle. Ecco, innanzitutto, se ancora non l'avete visto e soprattutto se non sapete come funziona Bitcoin, vi lascio qui in alto a destra il link per poter andare a vedere il video in cui l'ho spiegato, vi consiglio caldamente di guardarlo se non l'avete ancora fatto, comunque se non sapete come funziona Bitcoin, perché altrimenti qualche passaggio vi potrebbe sfuggire. Detto questo, com'è che funziona una criptovaluta? Cioè, com'è che riesco a fare una transazione? Semplicemente devo essere in possesso della chiave privata giusta che mi permette di spendere dei Bitcoin o degli Ethereum, insomma, prendiamo Bitcoin per fare prima. Quindi, in realtà, io potrei semplicemente, quindi prendiamo questa slide, questo uomo pensante ha la sua password, la crea, se la scrive su un pezzo di carta e quella lì è la sua password, la sua chiave privata per i suoi Bitcoin. E lui, poi, quando decide di spenderli, va sul suo wallet Bitcoin Core, quello vero, quello originale, e crea una transazione nuda e cruda, che è sostanzialmente questa stringa qui, così lunga. Ok, quindi quello che state vedendo qui è, a tutti gli effetti, una transazione di Bitcoin. D'accordo? Quindi vi può sembrare incomprensibile, ed in effetti è incomprensibile, ma questa qui è proprio una transazione Bitcoin, se voi prendete e copiaste questo numero qui e andaste in un blockchain explorer, lo trovereste, quindi è una transazione reale che è già esistita, e la cosa interessante è che, per farla, è sufficiente che voi sappiate innanzitutto come gestire i campi di una transazione, e poi vi ricordiate la password, o perché la sapete a memoria, o perché, come l'uomo pensante, l'avete scritta su un pezzo di carta. Ok, quindi perché non facciamo tutti così, semplicemente non ce la scriviamo su un foglio, non ce la ricordiamo a memoria, e gioco fatto. Beh, capite bene che se per utilizzare Bitcoin o una qualunque cripto bisognasse, innanzitutto, ricordarsi a memoria una password molto lunga, e poi riuscire a capire di come creare una transazione in questo modo, puri numeri, ok, non lo userebbe nessuno, ovviamente, ed è proprio qui che entrano in gioco i crypto wallet, come Metamask. Vi anticipo che in questo tutorial noi andremo a usare solamente Metamask, perché è il più comodo, a mio avviso è anche quello graficamente migliore, so che non è l'unico, magari molti di voi conoscono Trust Wallet, funziona in modo veramente simile, ma non andrò a trattarlo in questo video, magari ci farò un video a parte, quindi se avete delle domande che non riguardano Metamask, chiaramente in questo video non le tratterò. Che cosa fa quindi Metamask? Metamask ci risolve due problemi. Il primo è quello di non doverci ricordare a memoria un sacco di password, chiaramente qualcosa dovremo ricordarci e lo vedremo successivamente, ma soprattutto costruisce in modo automatico le transazioni, quindi questa stringa gigantesca non dobbiamo crearla noi, ma la crea in automatico Metamask. Noi dobbiamo semplicemente ricordarci una password, e dopo scenderemo ancora più nel dettaglio. Chiariamo un altro concetto importantissimo, la differenza tra seed phrase e private key, cioè la chiave privata. Si sentono spesso, quindi magari li avete anche già sentiti nominare, ma secondo me a volte non si capisce veramente la differenza tra i due, che in realtà è enorme. Infatti, se avete già visto il video su Bitcoin, o se semplicemente sapete come funziona Bitcoin, e questo vale anche per altre crypto come Ethereum e tutte le altre, per poter fare una transazione valida, il seed phrase non serve a niente. Quello che serve è una private key valida per quei dati Bitcoin, per quei dati Ethereum. E quindi uno si chiede, benissimo, ma se la cosa importante è semplicemente la chiave privata, perché quando io creo un wallet, se magari l'avete già fatto, perché devo memorizzare quello che viene definito un seed phrase, che è sostanzialmente una stringa composta da 12 o 24 parole. In questo caso ne ho create 12 completamente a caso. Ecco, dovete immaginare che anche qui la seed phrase è semplicemente una comodità che i wallet, i crypto wallet, mettono a disposizione degli utenti. Perché? Perché sostanzialmente il seed, che è questa stringa composta da 12 parole, a volte può essere composta anche da 24, viene utilizzata, seguendo degli algoritmi ben precisi, che ovviamente adesso non sto a spiegare, per generare una serie, non è infinita, ma veramente molto molto lunga, di chiavi private. Quindi, ricordandosi una sola parola, cioè una sola password, il seed, si generano in modo automatico e soprattutto deterministico, vuol dire che si generano sempre quelle a partire da uno stesso input, una serie veramente enorme di chiavi private. Ogni chiave privata poi ha associato una chiave pubblica, che è poi l'indirizzo che voi avete e che potete condividere per ricevere pagamenti. E sapete perché questo avviene nei crypto wallet? Perché alla fine noi utenti siamo dei bradipi. Cioè siamo pigri, no? Vogliamo ricordare il meno possibile, vogliamo fare il meno possibile nel modo più semplice possibile. E quindi, gli sviluppatori che cosa hanno fatto? Hanno detto, va benissimo, volete fare i bradipi? E allora noi vi creiamo il seed phrase. Voi vi ricordate solo questo? E poi, al resto ci pensiamo noi, perché in realtà non è che dato il seed phrase siamo noi che dobbiamo mettere gli algoritmi, creare gli algoritmi. No, semplicemente noi ci ricordiamo questo e in automatico lui ci crea una serie di chiavi private e tra l'altro poi crea anche lui da solo la chiave pubblica, crea da solo l'indirizzo, fa veramente tutto da solo. Ci dobbiamo ricordare solo una cosa. Ripeto, perché? Perché siamo dei bradipi, d'accordo? Ma in generale, cioè gli umani sono delle persone pigre, fondamentalmente. Adesso, altra distinzione importante, cioè che tipi di wallet esistono? Fondamentalmente ce ne sono due. Adesso poi tralasciamo i dettagli, magari ci sono svariate tipologie di wallet, ma io ne voglio citare solo due. Quelli definiti live wallet, che sono quei wallet dove sostanzialmente la chiave privata viene salvata in, tra virgolette, locale, sul telefono oppure sul computer. Quindi ad esempio Trust Wallet, che è un wallet per telefono, oppure Exodus, un altro live wallet. E poi ci sono gli hardware wallet, che sono dei veri e propri dispositivi fisici, che quindi vanno comprati, che conservano le chiavi private al sicuro e soprattutto off-chain, si dice, e offline, nel senso che non sono conservate sul computer e non sono conservate sul telefono. Tra l'altro vengono costruiti in modo apposito che anche dovessero rubarveli e manometterli è veramente difficile riuscire comunque a estrarne le chiavi private. Metamask perché l'ho posizionato in mezzo? Perché Metamask può essere utilizzato sia in modalità live wallet, cioè con la chiave privata che viene sostanzialmente salvata sul computer, sia in modalità hardware wallet, nel senso che si può configurare con un hardware wallet. In particolare vi farò vedere con il nano ledger, che è questo qui. Quindi si può utilizzare Metamask collegato a un hardware wallet. Che cosa vi consiglio io? Chiaramente per giocare potete tranquillamente utilizzare dei live wallet. Quando incominciate a gestire delle cifre più importanti, fate un investimento, vi comprate un ledger, vi dico ledger perché io ho un ledger, in particolare io ho un nano ledger S, che costa mi pare 50 euro, e state più tranquilli. Ok, in realtà non serve per forza il ledger, qui ho messo anche il tracer, che sono le due marche più famose. Detto questo, ragazzi, adesso passiamo all'atto pratico. Quindi che cosa vediamo? Come configurare un wallet, in particolare Metamask, come volendo si può collegare ad un hardware wallet, e poi tutti i parametri del wallet. Eccoci qua, ragazzi. Come prima cosa dobbiamo scaricare Metamask, e quindi basta andare su Google e digitare Metamask. A questo punto andiamo su download. Ah, mi raccomando, controllate il sito, perché è fondamentale che il sito sia quello originale, quindi se avete indirizzi strani, fatevi due domande. Premete su download, chiaramente qua scegliete il vostro browser, io attualmente sto utilizzando Chrome. Premiamo su aggiungi, add extension, e sostanzialmente in due minuti ve la scaricherà e ve la aggiungerà a Chrome. Perfetto. Ecco fatto. Quindi me l'ha già aggiunta, tra l'altro la vado anche a pinnare, così la vedete qua in cima. A questo punto premiamo subito su inizia. E qui vediamo subito. Sei nuovo su Metamask? No? Sì. Chiaramente non faccio la parte di no, perché vuol dire che una persona lo sa già utilizzare. Noi andiamo nella versione sì, iniziamo, quindi crea un portafoglio. Ok? Quindi a consento. Qui vi chiede di creare una password. Attenzione, questa non è né una chiave privata, né la seed phrase, ma è semplicemente una password che Metamask salverà il locale e che vi serve per sbloccare il vostro wallet. Ok? Però ripeto, non è né la seed phrase, né le chiavi private. Quindi, se per esempio doveste decidere di riimportare il wallet, questa password non ha la minima valenza. Adesso metto una password di prova, ok? Ma casuale proprio. Ok. Creiamo. Va bene, qua ci fa vedere un video, adesso non ci interessa, premiamo su avanti. Ecco ragazzi, questa è la cosiddetta seed phrase. Quindi premendo su questo lucchetto, lui vi farà vedere la vostra frase. Questa, ragazzi, è di fondamentale importanza. Cioè, questa qui ve la dovete segnare e attenzione, segnatevela in luoghi sicuri, quindi non su un pezzo di carta che poi buttate, che vi dimenticate, ok? E anche con le dovute ridondanze, se necessario. Questa parte la schippo velocemente, ma lui vi chiederà semplicemente di memorizzarla e successivamente di inserire alcuni pezzi. Una volta fatto tutto, lui vi dirà congratulazioni e voi premete su tutto fatto. E va bene. A questo punto potete chiudere. E vi ha creato il vostro wallet. Attenzione, quello che lui vi ha appena creato è il tipo di wallet che prima ho definito live wallet. Se volete configurare Metamask con un Nano Ledger o con un hardware wallet, dovete premere qui in alto a destra, quindi a procedura fatta, premete in alto a destra e andate su connetti portafoglio hardware e qua scegliete se avete un Ledger, se avete un Tracer. Vi lascerò in descrizione le due guide. Uno, se usate un Ledger. Due, se usate Tracer. Sono le guide ufficiali, quindi sono veramente molto chiare. Vi fanno capire proprio step by step anche con l'hardware wallet fisico come poter proseguire. Comunque è veramente molto semplice, d'accordo? Vi dico anche una cosa a proposito dell'hardware wallet. Quando voi configurate un account con l'hardware wallet vi si aggiungerà un altro account, quindi qui vedete che io posso creare una serie infinita di account in realtà. Perché? Perché dal seed phrase si derivano tante chiavi private e da ogni chiave privata c'è un indirizzo. Quindi vedete che premendo su crea account lui continua a crearmi tanti account sempre legati allo stesso seed phrase ma con chiave privata diversa. La cosa bella del seed phrase è che io ricordandomi solo il seed phrase ho tutti questi account tra virgolette gratis perché le chiavi private me le gestisce lui con una generazione che è deterministica a partire dalla chiave seed che è la seed phrase. Se invece connettete un indirizzo con un hardware wallet vi comparirà accanto la parola hardware wallet con solo hardware adesso non ricordo e chiaramente se doveste decidere di reimportare questo wallet che avete appena creato con Metamask seguendo la procedura che vi ho fatto vedere non ve lo reimporterà automaticamente perché dovrete fare ancora una volta connetti portafoglio hardware perché? Perché la seed phrase e le chiavi private dell'hardware wallet sono all'interno dell'hardware wallet quindi non escono mai da lì e Metamask non ne ha mai accesso mentre configurandolo in modalità live come abbiamo fatto noi come si fa all'inizio chiaramente Metamask ha in locale anche le chiavi private qui c'è un menu a tendina dove se premete vi fa vedere tutte le reti alle quali Metamask si può collegare e di default troverete queste qui quindi Ethereum principale poi una serie di reti che sono tutte le reti testnet di Ethereum quindi reti di test la prima cosa che vediamo di conseguenza è come aggiungere una rete personalizzata che cosa vuol dire vi piacerebbe utilizzare Polygon vi piacerebbe utilizzare Phantom vi piacerebbe utilizzare la BSC si va bene si può fare anche con Metamask attenzione non tutte le blockchain sono configurabili con Metamask tutte le blockchain IVM compatibili cioè Ethereum Virtual Machine compatibili lo sono quindi lo è Polygon lo è la BSC lo è la Avalanche C Chain lo è Phantom la Kronos Network ma alcune no tipo Cardano non lo è Polkadot non lo è Solana non lo è ok quindi ci sono delle eccezioni in quel caso vanno installati dei wallet appositi ma chiaramente la mia guida è su Metamask perché una volta capito come funziona un wallet tutti gli altri semplicemente cambia il nome cambierà la grafica ma il senso rimane lo stesso e quindi adesso vi faccio vedere come aggiungere su Metamask una nuova rete io vado su questo menu tendina premo rpc personalizzata attenzione se non ho questa casellina cosa che è difficile ma qualcuno evidentemente non ce l'ha basta che va sul pallino in alto a destra impostazioni reti e qui può fare aggiungi rete quindi adesso ci sono arrivati in questo modo ma facendo da qui rpc personalizzata vi porterà sempre allo stesso punto e qui ci sono dei campi da compilare e allora voi mi dite ma come li compilo è molto semplice vi faccio vedere l'esempio della bsc perché uno vale per tutti io cerco bsc rpc ok perché proprio rpc perché vedete che qui c'è bisogno di rpc rpc sta per remote procedure call che è una diciamo una tecnica informatica molto utilizzata non sto qua a spiegarvela comunque ecco che troviamo il sito ufficiale che è quello di binance chiaramente se scegliete phantom o polygon insomma ci sono sempre i siti ufficiali non rivolgetevi a siti che non sono ufficiali piuttosto chiedetemi su instagram quali sono questi dati insomma si trovano comunque facilmente infatti vedete che mi basta un attimo scorrere e li trovo qua ok quindi semplicemente vado a copiare questi dati una volta completati tutti i dati tra l'altro in realtà questi due sono opzionali ma è meglio inserirli tra l'altro tutte le informazioni ci sono quindi non ci sono problemi premiamo su salva ed ecco che lui vi ha aggiunto una nuova rete la bsc ecco state attenti ad aggiungere la mainnet perché ci sono spesso anche le testnet ma nelle testnet i token e le monete non hanno valore reale e guardate che adesso nel mio menu a tendina si è aggiunta la bsc quindi voglio aggiungere polygon vado di nuovo rpc personalizzata e ci metto tutti i dati basterà che scriva su google polygon rpc e mi trovo i dati sul sito ufficiale d'accordo adesso non lo rifacciamo perché è veramente identico ora torno su ethereum semplicemente perché andremo a lavorare su ethereum ma ripeto metamask funziona in maniera uguale per tutte le reti quindi una volta che capite come funziona su ethereum capite come funziona metamask su tutte le altre reti ora nel momento in cui lo aprite per la prima volta e avete un saldo a zero chiaramente lui vi dirà che avete zero it e controvalore in dollari zero nella parte di patrimonio avete tutti eventuali i token oltre a eth come faccio però ad aggiungerli perché metamask in automatico vi fa vedere solo la moneta principale e se voi vi prelevate per esempio dal vostro exchange vi prelevate sul wallet per esempio dei die può capitare che metamask non ve li faccia vedere quindi voi pensate di aver fatto una transazione e di averli buttati ecco può essere se avete sbagliato dei dati ma in realtà metamask spesso non aggiorna in automatico i nuovi token per farlo dovete cliccare su aggiungi token ora c'è una barra di ricerca dove potete scegliere quelli più famosi tipo dai vi basta cercarlo e lui lo trova a questo punto fate avanti aggiungi token ovviamente adesso mi da come bilancio zero dai ma quantomeno mi si aggiunge qui alla lista quindi se voi vi eravate mandati dei dai e non li vedevate aggiungeteli e molto probabilmente vedrete qui il vostro il vostro saldo di dai vi faccio notare che nei token più sconosciuti quelli che sostanzialmente non trovate nella barra di ricerca basta che andiate in token personalizzato e qui dovete inserire tre dati diversi dove li trovate basta che andate nell'explorer quindi in questo caso io vado su eeth explorer che poi si chiama etherscan che è il blockchain explorer di ethereum sono tutti veramente uguali anche a livello di interfaccia grafica quindi ancora una volta io ve lo faccio vedere su etherscan ma bscscscan è identico polygonscan è identico phantomscam è identico quindi veramente sono tutti identici si va tokens view yearc20 scusate yearctop tokens e qui lui ci dà la lista di tutti i token volendo c'è anche la barra di ricerca per esempio volete usdt eccolo qui io ci premo e vado a premere qui in alto a destra vedete che c'è se lo trovo premete su more add token to metamask ci premete e lui in automatico vi fa vi fa comparire questa schermata premete su aggiungi token e adesso se io torno qui questo lo annullo mi è comparso anche usdt d'accordo? quindi veramente molto semplice quindi quelli più semplici e più famosi li trovate anche nella barra di ricerca quelli che non trovate nella barra di ricerca andate su etherscan tokens yearc20 top tokens se non lo trovate subito così scorrendo lo cercate e poi premete su add token to metamask e ve lo ritrovate d'accordo? quindi questo deve essere di fondamentale importanza altra cosa che vi voglio dire vedete che metamask le separa in due parti patrimonio dove avete l'elenco delle monete che avete delle monete e dei token e attività dove ci sta l'elenco delle transazioni che fate adesso chiaramente c'è nessuna transazione perché l'ho appena creato il wallet ma qui vi comparirà l'elenco delle transazioni storiche che avete fatto ora vi voglio subito far vedere un funzionamento un po' pratico siccome non ho degli ethereum su questo wallet vi faccio vedere come potete sperimentare ragazzi ve lo consiglio caldamente prima di farlo con delle monete che valgono veramente dei soldi andiamo a lavorare in testnet per due motivi uno perché è gratis due perché se sbagliamo non abbiamo fatto danni e abbiamo magari imparato qualche cosa senza diciamo aver buttato via soldi quindi vi faccio vedere proprio anche come fare per capire per giocare incominciare a giocare con metamask senza preoccuparsi di dire oh mio dio ma se sbaglio qui ha ansia la mia prima transazione insomma lavoriamo in testnet quindi che cosa faccio vado su menu a tendina e scelgo rete di robsten la rete robsten come vi dicevo prima è una testnet di ethereum per ricevere degli it sulla rete testnet robsten bisogna utilizzare dei faso come questo link che vi lascio in descrizione uno incolla l'indirizzo qui l'indirizzo si copia qui in cima premendoci e premiamo su send me test ether io questo l'ho già fatto infatti vedete che adesso ho 0,18 it in realtà lui ve ne manda 0.3 ma io l'avevo già usato e quindi ho dovuto mandarmeli diciamo da me ora che quindi abbiamo 0.18 it possiamo fare un po' di prove d'accordo e in particolare andiamo subito su uniswap perché ci permetterà di capire tutte le varie funzionalità di metamask quindi tutti gli aspetti per poterlo capire veramente al 100% ci richiamo sul sito ufficiale di uniswap che è semplicemente app.uniswap.org e il bello è che si connette anche sulle reti di test come Robsten a questo punto premiamo su connect to a wallet metamask scegliamo l'account sul quale abbiamo gli it che nel mio caso è l'account 2 premiamo avanti e connettiamo ecco questo procedimento che abbiamo appena fatto è necessario ogni volta che ci approcciamo ad una nuova piattaforma DeFi quindi adesso che l'ho fatto su uniswap la prossima volta non dovrò più rifarlo ma se cambio piattaforma la prima volta che premo su connect wallet dovrò fare questa procedura che avete visto cioè dovrò dire a metamask sì ok accetto di collegarmi con il sito in questo caso uniswap oppure con il sito curve con il sito balancer eccetera eccetera comunque questa vuole essere più che altro la puntata su come funziona metamask tanto poi come andremo ad utilizzare le piattaforme DeFi lo vedremo più avanti qui utilizzo uniswap semplicemente perché mi permette di farvi capire alcune cose su metamask infatti quello che voglio andare a fare è una banale transazione quindi immaginiamo adesso io ho 0,18 ETH qui scelgo DAI e vado a fare uno swap di 0.1 Ethereum per dei DAI lui me ne dà 47,79 tenete presente che questa è la rete Ropsten quindi i prezzi non sono validi non sono quelli reali premo su swap confermo il swap ecco se non state capendo cosa sto facendo qui non è importante infatti quello che vi voglio far capire è quello che sta accadendo adesso siccome sta partendo una transazione lui mi dice attenzione sta partendo una transazione cioè io voglio scambiare 0.1 ETH in cambio di questa quantità di DAI va bene per farlo chiaramente lui quindi mi dice va bene tu spenderai 0.1 ETH perché l'hai scelto al quale si aggiunge la fee cioè le commissioni e lui Metamask in automatico va a prendere le fee medie del momento in base all'uso della rete e ve le va ad impostare in automatico quindi vedete che vi mette 0.000276 ETH come fee e quindi in totale andremo a spendere 0.100276 perché 0.1 lo scambio e poi ci sono questi qua di fee ora devo dire che Metamask utilizza spesso il dato corretto che quindi poi sicuramente è quello che bisogna utilizzare se però decidete di voler cambiare le fee perché potete farlo dovete premere su modifica ok e qua vi si apre il menu delle fee ora ancora una volta Metamask ci permette in modo intuitivo di dire voglio mettere le fee molto basse voglio mettere le fee medie che è quelle che imposta lui in automatico oppure voglio mettere le fee alte in modo tale che la transazione sia più veloce se non mi basta questo e voglio un grado di raffinatezza in più vado su opzioni avanzate e mi si apre questa altra finestra e il dato importante è qui ok max priority fee questo qui che adesso è settato come 2 più io lo alzo più spendo in fee e più veloce la mia transazione viene approvata vedete che se io ecco ovviamente dovete aumentare prima la max per poi poter aumentare la max priority quindi mettiamo a 5 questa ok higher than necessary vabbè lasciamola a 4 allora e mi permette di alzare a 4 questa ora Metamask mi informa che sto pagando più di quanto necessario vabbè ma a me non interessa voglio pagare di più anzi metto pure 5 perché non mi interessa voglio pagare proprio tanto vedete che si è alzato il gas cioè se qui vado ad alzarlo di brutto ok facciamo che metto 20 e qui pure metto 20 vedete che sto pagando nettamente di più però nessuno mi vieda di farlo premo salva d'accordo e poi decido confermo la transazione d'accordo ovviamente essendo una prova posso farlo tranquillamente tra l'altro Uniswap mi permette di aggiungere subito il token DAI in modo tale che me lo vedo ora la transazione sta venendo elaborata e in attività si vede questa transazione in coda se io ci premo vedo che l'importo è meno 0.1 hit vedo la base fee e la priority fee ecco adesso vedete che la transazione adesso è approvata e infatti nel mio patrimonio vedete che dal 0.1 adesso ne ho dal 0.18 hit che avevo adesso ne ho 0.0774 mi sono comparsi 47.793 dai d'accordo quindi ho fatto la mia transazione e vi ho fatto vedere i parametri che sono quelli importanti ora su Ethereum non so se l'avete ben visto ma tra l'altro ecco vi faccio vi facciamo anche vedere che se poi voi volete inviare i vostri banalmente basta andare su invia qui decidete a chi inviarli per esempio per fare una prova li voglio inviare al wallet 1 quindi copio questo account torno nel 2 premo invia li invio lui mi dice il mio bilancio io ne voglio inviare 0.01 avanti ecco una cosa importante è che quando andate su opzioni avanzate questo max priority fee e questo max fee li vedete solo su Ethereum perché Ethereum da quando ha fatto il nuovo aggiornamento London ha le fee divise in due parti sul polygon sulla BSC che invece non sono divise in due parti vedrete semplicemente gas price più aumentate il gas price più aumentano le fee che pagherete ma più veloce sarà la transazione e viceversa più diminuite il gas price meno pagherete e meno veloce la transazione avverrà sul network questo lo volevo precisare perché immagino che magari molti di voi non vogliono utilizzare Ethereum ma la BSC o Polygon o Phantom insomma e non vedono questi due tasselli ma vedono solo gas price comunque poi magari lo andremo a vedere quando utilizzeremo le piattaforme DeFi nei prossimi episodi voglio adesso un attimo sintetizzare tutto quello che vi ho detto su Metamask di importante uno Metamask non aggiunge i token in automatico per farlo dovete premere su aggiungi token e scrivere l'indirizzo del contratto dove lo trovate lo trovate su Etherscan nel caso di Ethereum o comunque nei vari blockchain explorer seconda cosa quando inviate una transazione tenete sempre a mente che cosa state facendo quindi andate a pagare innanzitutto la quantità che avete deciso di spendere che a volte può essere zero perché quando si interagisce con uno smart contract lo vedremo più avanti nelle prossime puntate spesso in realtà non si vuole spendere si vuole semplicemente interagire e quindi qui vedrete zero ma si pagano sempre le fee e le fee Metamask le imposti in automatico andando a prendere diciamo il prezzo medio del gas price della rete ma voi lo potete modificare andando a premere su modifica opzioni avanzate e scegliere in modo manuale il prezzo che più desiderate se non sapete che prezzo mettere allora lasciate quello che mette Metamask di default quindi senza toccare nulla e premete su conferma e la transazione parte ok quindi uno preme su conferma in attività vede che la transazione è in corso e ci sono altre due cose importanti che volevo dirvi la prima è velocizza velocizza è l'opzione che vi permette di velocizzare una transazione quando per esempio avete sbagliato a mettere il gas e l'avete messo troppo il gas price l'avete messo troppo basso a questo punto premendo su velocizza e aumentando di brutto quindi lo mettiamo a 4 e salvando lui sostanzialmente cerca di velocizzare la transazione quello che succede in realtà è che invia un'altra transazione identica ma con un gas price più alto altro tasto che vedete qui è l'annulla premendo su annulla e inviando si può cercare di annullare la transazione attenzione si annulla la transazione ma non il gas che si consuma quindi annullatela solamente in casi veramente di esigenza tra l'altro l'annullamento di una transazione ecco adesso si è confermata l'annullamento di una transazione non è detto che vada a buon fine perché quando premete su annulla e confermate in realtà state mandando un'altra transazione nella quale dite annulla quella precedente sperando che venga confermata prima che la transazione effettivamente sia confermata sulla rete ok cioè la transazione che volete annullare sia confermata è un po' complesso ma spero che abbiate capito d'accordo quindi il tasto annulla vi dico la verità non l'ho mai utilizzato in pratica il tasto velocizza che in inglese è speed up mi è capitato di utilizzarlo su polygon ok su ethereum non l'ho mai utilizzato sulla bsc nemmeno su polygon spesso quindi può essere utile conoscerlo detto questo ragazzi spero che sia stato tutto chiaro se avete degli ulteriori dubbi fatemi sapere qua nei commenti e noi ci vediamo al prossimo episodio della DeFi guida completa ciao a tutti